Io ho grandi emozioni, non ce l'ho qui, più che emozionati bisogna arrivare a coraggiose e determinati. Domani la partita sarà durissima, siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo e questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c'è l'altro aspetto, nel calcio niente è impossibile e questo ci deve dare convinzione e coraggio. Però la partita non mi sembra una partita da presentarsi emozionati, mi sembra una partita da presentarsi belli incazzati. La strada più semplice per la qualificazione purtroppo non esiste. La qualificazione noi ci auguriamo di ottenerla ma non sarà sicuramente semplice. Loro hanno una qualità smisurata e come tutte le squadre che hanno tanti giocatori di estrema qualità hanno grande facilità a trovare il gol. E quindi penso che noi dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva ma poi bisogna avere il coraggio anche di andare a farne male perché pensare di stare 100 minuti lì dentro a difendersi e basta la vedo dura. Ma io a livello di numeri fisici non ho dubbio che domani sera la squadra esprimerà più numeri saremo noi. Poi i numeri non sono tutto perché poi bisogna guardare le efficienze. Io posso fare due chilometri più del mio diretto avversario, lui mi spara un 36 all'ora nell'azione decisiva e i due chilometri in più non servono più a niente. Quindi dal punto di vista fisico che si possa fare prestazione nonostante la stanchezza del periodo non ho grandi dubbi. Speriamo che ci lascino degli spazi. Loro sono una squadra che attaccano tanti giocatori. Tanti giocatori di qualità possono far male da un secondo all'altro però solitamente un po' d'equilibrio durante la partita lo perdono e qualche spazio lo lasciano. Bisogna essere bravi a venire fuori dalla prima riaggressione che hanno loro sulla Palla Pezza che è di grande livello. Se si esce da quella prima riaggressione qualche spazio si può trovare. Le ondizioni, è chiaro, erano due giocatori che venivano da un periodo di inattività e quindi hanno avuto un reupero piuttosto lento. Gli indiatori di reupero fino a ieri pomeriggio non erano di grandissimo livello stamani hanno fatto un buon miglioramento. Noi crediamo nel percorso che stiamo facendo, nella crescita che stiamo avendo dal punto di vista di squadra, insieme allo staff, insieme alla società essere qui per la Lazio è motivo di grande soddisfazione. Rappresentare poi l'Italia lo è ancora di più perché sappiamo quante responsabilità ci sono dietro questa partita o anche le altre che le italiane andranno ad affrontare nei prossimi incontri. Quindi, come ha detto il mister, non vedo tutto questo divario negli altri campionati come si parla sempre. È ovvio che con la Premier, ad esempio, dal punto di vista economico, non possiamo mai competere, però l'anno scorso l'Inter ha fatto la finale di Champions, l'Italia ha vinto l'Europeo. Stiamo cercando di crescere, soprattutto come nazione, ma noi soprattutto come club. Quindi questo tipo di partite per noi sono importantissime anche per il futuro. Se dovessi raccontare l'evoluzione che ho avuto io e che ha avuto la Lazio negli anni che sono stato io, dobbiamo stare qui fino a domani, perché davvero quando sono arrivato io a Formello c'era giusto il parcheggio delle macchine, lo spogliatoio c'era nei panchine e ora se la gente vuole venire a vedere com'è diventato. Quindi questo ti fa capire che poi i discorsi tecnici, tattici, ti portano ad un miglioramento, è vero, per tuo personale, perché io ho rinnovato quattro volte, ma anche la società ha avuto dei benefici su questo, perché siamo arrivati a non giocare le coppe. Quando sono arrivato io, adesso ci stiamo giocando in quarto di finale di Champions. Quindi se vogliamo riassumere i miei otto anni è stato un bel salto in avanti, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista del club. L'altra domanda è ovvio che vuoi giocare, perché altrimenti ti saresti dato ai morsi sulle mani per tutta la settimana aspettando lunedì la partita con l'Udinese. Quindi per noi è importante poter giocare domani e poter, tra virgolette, buttare via ancora le scorie di Milano, di la partita con Milano. Sì, ma saremmo dei pazzi a pensare che non sarà un ambiente infernale, perché ti stai giocando, come ho detto prima, la storia, ti stai giocando un qualcosa di speciale, quindi sarà sicuramente tutto, sarà difficile. È ovvio che abbiamo avuto delle difficoltà, però proprio per questo non voglio nemmeno appesantire troppo la squadra di discorsi. Voglio solo che i ragazzi stiamo tutti tranquilli e che ci possiamo giocare le nostre carte. Grazie. Grazie.